Preghiera a Sant'Anna per la protezione dei figli. Gloriosa Sant'Anna, protettrice delle famiglie cristiane, a te do i miei figli. So che li ho ricevuti da Dio e che a Dio appartengono. Pertanto ti prego di concedermi la grazia di accettare ciò che la Divina Providenza ha disposto per loro. Benedicili, oh misericordiosa Sant'Anna, mettili sotto la tua protezione. Non ti chiedo per loro privilegi eccezionali, solamente desidero consacrarti le loro anime e i loro corpi, affinché tu ci possa preservare da ogni male. A te affido le loro necessità temporali e la loro salvezza eterna. Imprimi nei loro cuori, oh mia buona Sant'Anna, l'orrore del peccato, allontanali dal vizio, preservali dalla corruzione, conserva nelle loro anime la fede, la rettitudine, i sentimenti cristiani ed insegna loro ad amare Dio sopra ogni cosa, come lo ha insegnato alla tua purissima figlia, l'Immacolata Vergine Maria. Sant'Anna, tu che sei stata specchio di pazienza, concedimi la virtù di affrontare con pazienza e amore le difficoltà che si presentano nell'educazione dei figli. Per loro e per me chiedo la tua benedizione, oh Madre Celeste piena di bontà, che ti onoriamo sempre come Gesù e Maria, che viviamo conformemente alla volontà di Dio e che dopo questa vita incontriamo la beatitudine nell'altra, riunendoci a te nella gloria per tutta l'eternità, e così sia. Preghiera a Sant'Anna per le partorienti Sant'Anna, in te sei compiuto il sogno di ogni mamma, tu sei stata felice a motivo della tua figlia, che è la donna benedetta fra tutte le donne della terra. Sant'Anna accompagna tutte le partorienti in questo tempo di attesa, affinché la vita sbocciata nel loro crembo senta la gioia grande del loro cuore, e l'affetto del padre e di tutta la famiglia. Sant'Anna, diventare mamma è una grande missione, diventare mamma è un meraviglioso impegno, prepara tutte le donne in attesa, accompagnale, guidale, proteggile, è l'ora trepidante del parto. Sant'Anna, le creature che crescono nel crembo delle loro mamme, le affidiamo a te, le consegniamo a Maria, insieme ai loro padri, fa che le famiglie cristiane divengano riflesso dell'amore di Dio, vera ricchezza della casa e unica gioia dei figli. Amen. O gloriosa Sant'Anna, prega per noi.